benvenuti a un nuovo appuntamento della nostra stanza sociale con il nostro amico scrittore saggista filosofo soprattutto diego fusaro ciao diego un caro saluto da diego fusaro benvenuto ancora qui con noi oggi siamo alla vigilia delle elezioni quindi come non parlare di quello che accadrà fra qualche giorno come non fare un'analisi un'analisi filosofica di quello che sta accadendo e di quello che succederà degli schieramenti dei partiti delle loro campagne elettorali siamo a pochi giorni dalle elezioni quindi abbiamo già avuto modo di poter valutare anche l'atteggiamento oltre che i programmi dichiarati perché poi i programmi sono sempre quelli dichiarati bisogna vedere cosa si farà realmente qui abbiamo avuto modo di vedere il comportamento e i messaggi il modo di fare la campagna elettorale di tutti gli schieramenti in competizione quindi possiamo farci un'idea e anche dare un giudizio diciamo proprio filosofico culturale a quello che sta accadendo dare una sorta di immagine generale di quello che sta succedendo e quindi per questo ti lascio la parola ovviamente grazie noto subito un paradosso di queste elezioni europee 2019 che le due forze che con ogni probabilità otterranno maggiori consensi cioè la lega e il movimento 5 stelle erano quelle che nelle precedenti elezioni europee difendevano strenuamente l'idea dell'uscita dall'unione europea e dall'euro e che proprio su questo baluardo concettuale hanno costruito negli anni il loro consenso ecco infatti il paradosso è che queste forze che con ogni probabilità vinceranno ora hanno abbandonato il programma di uscita dall'unione europea e dall'euro sicché una volta che entreranno di peso con una maggioranza verosimilmente notevole nel parlamento europeo saranno quelle che manterranno lo status quo contro il quale si scagliavano poco tempo addietro sicché l'unione europea può dormire sonni tranquilli perché in realtà le forze che più si scagliavano contro di essa in passato sono quelle che ora nemmeno più menzionano il problema dell'uscita dall'unione europea e dall'euro del resto diceva herbert marcuse che la forza del sistema dominante tecno capitalistico sta nel fatto che non non opera più nella misura delle vecchie dittature totalitarie del partito unico che mentevano fuori legge gli altri partiti il sistema del totalitarismo glamour del mercato opera invece tramite la pluralità di partiti che sono tra loro interscambiabili e quindi in luogo del partito unico vi sono i partiti molteplici che però propalano il messaggio unico e quindi quale che sia il partito vincente vince sempre comunque il messaggio unico sì io la chiamerei una sorta di alternanza senza alternativa se vogliamo dire così no un'alternanza senza alternativa il paradosso è questo del resto diciamolo aperti sverbis l'inganno elettorale delle forze suddette che parlano di riforma dell'unione europea dall'interno e quello per cui esse sanno benissimo in verità che l'europa è l'unione europea è ab intrinseco irriformabile l'unione europea non può essere riformata l'unione europea è costruita ad hoc per procedere linearmente in direzione del liberismo più sfrenato sicché la sola mossa possibile è quella di produrre l'esodo l'esodo dall'unione europea impiego una metafora per rendere chiaro il concetto ai nostri spettatori immaginate una vettura che è stata programmata per andare dritta senza alcuna possibilità di deviare a destra o a sinistra come se avesse lo sterzo bloccato e che per di più sta procedendo verso l'abisso verso il baratro di quel liberismo sfrenato di quel libero cannibalismo che ha portato la grecia nelle condizioni in cui si trova ora ora il discorso di chi dicesse saliamo a bordo dell'auto per variare il percorso è ingannevole per le ovvie ragioni a cui facevo riferimento anche perché diciamolo apertamente il parlamento europeo conta in minima parte è puramente coreografico manca lo strumento per cambiare direzione certo alla fine decide tutto un organo che non è quello del parlamento europeo e quindi rivela l'inganno del parlamento europeo come democrazia che è tale solo come flatus voci in realtà non esiste realmente la democrazia in unione europea è semplicemente una coreografia che rivela come abbiamo ceduto la nostra sovranità a un ente privato e transnazionale che nulla a che vedere con i parlamenti e le democrazie ecco l'unica cosa che può fare il pilota assennato una volta salito a bordo e non potendo sterzare è quello di saltare giù dall'auto portando fuori anche gli altri passeggeri prima che l'auto precipiti nell'abisso questa è l'unica cosa da fare ma i partiti suddetti che hanno costruito il loro consenso su questo punto hanno rinunciato hanno già detto che staranno a bordo dell'auto e proveranno a sterzare ma noi sappiamo che non si può sterzare perché gli eurocrati coloro i quali hanno costruito l'impalcatura europea l'hanno costruita come struttura intrinsecamente liberista e irriformabile se accetti l'unione europea cioè se accetti la spoliticizzazione desovranizzata dell'economia accetti perciò stesso il liberismo e per la contraddizione che non consente non è possibile riformare l'unione europea se l'accetti accetti il liberismo sicché l'unica cosa che puoi fare è non accettarla uscire dal costrutto riporre in essere la sovranità nazionale come base della democrazia del keynesismo e dei diritti sociali questa è l'alternativa la cosiddetta contrapposizione tra sovranisti e globalisti nel quadro dell'unione europea è la contrapposizione fra i liberisti dell'unione europea e i sovranisti che a difesa del popolo dovrebbero difendere la sovranità insieme con la democrazia senza sovranità nazionale non vi è democrazia ecco perché i globalisti sono post democratici i sovranisti dovrebbero essere per la democrazia ma molti dei suddetti sovranisti in realtà accettano già il discorso del globalismo cosmopolita cioè dell'unione europea sicché in queste elezioni ne vedremo delle belle perché le uniche forze che mantengono coerentemente il programma dell'uscita dall'unione europea bisogna darne atto sono i comunisti di marco rizzo e i fascisti del terzo millennio di casa pauno che non vogliono essere chiamati fascisti si arrabbiano poi loro varie volte gli ho sentiti definire così non non voleva essere io non insulto spinozianamente non rido e non derido non piango ma provo a descrivere abbiamo chiamato comunisti quelli non voleva essere offensivo veramente non sono né comunisti no quelli né fascisti gli altri ho usato termini forse in appropriato diciamo il partito comunista di marco rizzo e casa pauno di simone estremi ai quali bisogna riconoscere io credo una grande coerenza da questo punto di vista al di là del fatto che uno può non apprezzare vari aspetti però sono gli unici che mi pare abbiano mantenuto fedelmente questo punto decisivo l'unione l'uscita dall'unione europea l'uscita dall'unione europea perché l'unione europea è da questo punto di vista il trionfo del liberismo dominante sotto questo profilo paradossalmente più coerente un partito come più europa che fa del proprio europeismo liberista un vessillo riconosciuto rispetto a partiti che a parole sono sovranisti per diciamo la difesa dei popoli dei diritti sociali e che poi in realtà hanno già esplicitamente asserito che non porteranno fuori l'italia dall'unione europea questo è il paradosso io credo vogliamo fare un po di fanta politica e vogliamo pensare a quale delle due ipotesi secondo te potrebbe essere più più plausibile ovvero da una parte il fatto che possano essere stati convinti della bontà di una virata possibile cioè dice guarda l'auto l'abbiamo messo un attimo in in officina gli abbiamo fatto fare una cremagliera quindi il volante adesso funziona può virare può sterzare potrebbe farlo e quindi sono stati in qualche modo convinti e a questa e quindi magari loro credono in buona fede di poter cambiare seconda ipotesi invece un'ipotesi prettamente meramente di convenienza cioè magari qualcuno potrebbe aver convinto queste forze politiche che non non fosse stato utile ai fini elettorali fini del consenso globale andare contro l'europa o terza ipotesi in questo caso terzium datur e cioè che magari dice noi ci mettiamo in questa posizione entriamo poi dopo invece facciamo facciamo quello per cui noi abbiamo sempre lottato ecco esiste una di queste tre ipotesi oppure ce n'è l'ultima che ovviamente anzi diciamo che vera la prima e cioè che sono stati convinti che va bene tutto così e che quindi conviene dunque io spero vivamente che sia la terza ebbè così a che usino come dire questo questo modus moderato di operare per poi una volta entrati al parlamento europeo tirare fuori l'italia dall'europa come ha provato a fare farage con l'inghilterra con tutte le contraddizioni che caratterizzano l'inghilterra perché lì abbiamo la reazione dell'elite che non vuole far uscire l'inghilterra dall'unione europea che farò è coerente certo che sì certo che sì infatti non ha provato a cambiare l'europa dall'interno ha tirato fuori il suo popolo sta provando a tirare fuori il suo popolo dall'unione europea io spero ovviamente che sia una strategia che sia una strategia anche di cipras a un certo punto in grecia si pensava che stesse usando una sofisticata intelligente strategia non per uscire dall'unione europea ma per farsi buttare fuori direttamente in realtà poi sappiamo che non è andata così con tutte le tragedie che ne sono conseguiti abbassamenti delle pensioni minime 700 bambini morti per via delle politiche di austerità depressiva lo ha riportato fubini vice direttore del corriere della sera questo è lo scenario io spero ovviamente che le forze dette sovraniste sappiano portare avanti coerentemente il progetto intorno al quale hanno costruito il loro consenso perché non dimentichiamo che nel marzo 2018 se gli italiani hanno votato in massima parte la lega il movimento 5 stelle è stato principalmente per il tema dell'euroscetticismo come viene definito ossia della critica dell'unione europea e dell'esigenza di uscirne del resto ricordo benissimo una pletora di convegni e di programmi centrati sul basta euro tour sull'uscita dall'euro il referendum per uscire dall'euro e così via quindi spero ovviamente che abbiano mantenuto questa convinzione ora con pratica di nicodemismo si direbbe nascondono per apparire meglio presentabili e poi per operare più efficacemente al momento opportuno lo scopriremo solo vivendo in questo caso solo votando forse come io dico sempre con una battuta ma che tale fino a un certo punto ricordate che nella cabina elettorale dio vi vede soros no ecco quindi noi tifiamo la terza ipotesi ma spieghiamo perché perché usi utilizziamo questi ultimo minuto questi due minuti che abbiamo per per chiarire la posizione di chi come noi perché io mi allineo al pensiero di diego riteniamo che l'europa vada smontata e ricostruita un po come una casa no tante volte le case si possono ristrutturare ma quando sono veramente molto rovinate è molto più conveniente abbatterle e ricostruirle ecco nessuno può pensare che intellettuali come diego come tantissimi altri ai quali io mi allineo diciamo dal punto di vista culturale possono essere contro un'unione europea reale o contro un'unione dei popoli una crescita una sorta di di condivisione dei popoli nelle ricchezze del pianeta eccetera tutte queste belle cose nessuno di noi ovviamente pensa il contrario solo un pazzo sarebbe contro l'idea dell'unione dei popoli della civiltà europea un pazzo soltanto come ha detto giustamente diego può pensare questo ma cosa riteniamo noi utilizzo questo termine perché mi ci metto dentro anch'io riteniamo che proprio perché noi amiamo l'unione dei popoli proprio perché noi amiamo la crescita del pianeta e la crescita della civiltà del vivere civile del buon vivere civile riteniamo che questa europa così strutturata con chi l'ha creata ovvero con le elite dominanti ovvero con le leggi di mercato sfrenate abbia invece umiliato il nostro la nostra crescita culturale il diritto romano il diritto dei nostri popoli europei e che quindi ci porti verso un baratro che dal quale dobbiamo assolutamente venirne fuori e vorrei su questo anche il tuo ultimo pensiero per chiudere se dovessi esprimerla in maniera sintetica con una sorta di sintesi estrema direi che chi ama veramente la civiltà europea i popoli europei la nostra civiltà oggi non può che essere contro l'unione europea proprio perché ama la civiltà europea di cui l'unione europea così com'è certo io parlo di quella esistente è la negazione della nostra civiltà occorre ricostruire su nuove basi un'unione dei popoli europei che si basi su quello che vorrei definire un internazionalismo sovranista ossia un rapporto internaziones tra le nazioni europee che riconosca ciascuna di esse la propria specificità e il diritto di orientarsi al proprio interno secondo la sua storia la sua visione le sue concezioni c'è una unione rispettosa delle differenze del resto l'europa esiste storicamente come pluralità di differenze essere europei significa essere italiani francesi e spagnoli non come l'unione europea che ci chiede di essere europei rinunziando al nostro essere italiani francesi qui la contraddizione vorrei aggiungere un'ultima riflessione della quale magari faremo una puntata della stanza sociale è proprio questa demonizzazione delle differenze che invece sono il punto di partenza delle emozioni perché noi non ci dimentichiamo che tutta la cultura anche ad esempio l'intrattenimento sulla letteratura nel cinema nelle arti eccetera è dovuto proprio alle differenze che ci sono fra di noi perché se fossimo tutti uguali non avremmo alcun motivo di discutere di creare quindi arte filosofia cultura eccetera eccetera quindi io credo che le differenze laddove invece sono sono amate dagli uni dagli altri sono veramente il punto di partenza della vera civiltà diego ti chiedo un'ultima riflessione su questo assolutamente occorre difendere a ogni livello la coppia di identità e differenza che era anche il titolo di un bel saggio di martin heidecker grazie grazie a diego fusaro riprenderemo questo argomento nelle prossime puntate della stanza sociale e auguriamo a tutti i cittadini per queste future elezioni un'ottima scelta all'interno dell'urno perché l'unica cosa che possiamo dire ci rivediamo dopo le elezioni con i commenti a quello che sarà accaduto grazie a tutti un caro saluto da diego fusaro